E' sempre un brutto giorno quando ci sono italiani che si uccidono perché non hanno la possibilità di pagare le tasse allo Stato. Già, uno Stato che pensa di più agli extracomunitari che ai suoi cittadini che lasciano per cui le loro aiuole di vita incolte, senza più fiori. Sì, è una giornata più viginosa, grigia, buia, scura, dopo che l'ennesimo imprenditore si è suicidato oggi perché non poteva pagare i 100.000 euro di tasse allo Stato. L'umanità che dice e di cui parla il Presidente del Consiglio dovrebbe essere usata soprattutto verso gli italiani che in tempi passati morirono per l'Italia. combattendo. E' giusto aiutare chi ha bisogno ma si inizi dai propri figli. Italia